Paolo Limiti, è nato a Milano, l'8 maggio 1940. Il padre, era un procuratore della Pirelli milanese, mentre la mamma era siciliana. Visse l'infanzia e l'adolescenza a Torino, dove si diplomò nel 1961. Debuttò come paroliere grazie a Iula de Palma, di cui era un ammiratore. Gli inviò infatti, il testo di tre canzoni, che la cantante apprezzò, tanto che decise di inciderne una, col nome. Mille ragazzi fa. Nel 1968 era entrato in Rai, grazie a un'intuizione di Luciano Rispoli. A Viale Mazzini, si era fatto strada come autore musicale e televisivo, riscutendo grande successo con il reschiatutto di Mike Buongiorno. Tra il 1996 e il 2004, l'affermazione definitiva nell'Olimpo della TV con lo storico, ci vediamo in TV, ieri, oggi e domani. Il programma, che era andato in onda prima su Rai 2 e poi su Rai 1, era una sorta di amarcord in cui si rievocavano i grandi personaggi della TV e di Hollywood. Tra i personaggi più famosi, legati alla sua televisione, il camionolino irriverente Flora Dora, e la Marilyn italiano Justine Matera, poi diventata la sua moglie. Le ultime apparizioni di limiti sul piccolo schermo, erano state nel 2010, sulla Rai, Tributo alla Tigre di Cremona. E nel 2012 con, Estate in TV con noi, e per una rubrica, sul canale La 7 all'interno di un programma di Cristina Parodi. L'estate del 2016, Adalassio, aveva scoperto di avere un tumore. Si è spento il 27 giugno 2017. L'estate del 2016, Adalassio, aveva scoperto di avere un tumore. L'estate del 2017. L'estate del 2017, Adalassio, aveva scoperto di avere un tumore. L'estate del 2017. aggame. Esatta del 2017. Questo, adalassio, aveva scoperto di avere un tumore.